Grazie a tutti. Il Vangelo è centrato su una delle frasi più drammatiche che ci ha detto Gesù e sulla quale dobbiamo meditare anche perché è di grande attualità. Cioè Gesù dice, commentando un fatto che era accaduto, se non vi convertirete, perirete tutti nel medesimo modo. Allora, si presentano a Gesù alcuni che gli chiedono un commento su un fatto di sangue che era avvenuto. Cioè c'erano dei Galilei, probabilmente erano, diciamo, contrari al dominio dei Romani, che mentre facevano i sacrifici sono stati uccisi dai soldati romani da Pilato e hanno mescolato il loro sangue con quello degli animali uccisi per il sacrificio. Allora chiedono a Gesù, ma che peccato hanno fatto per aver subito una morte così terribile? E Gesù risponde, se non vi convertirete, perirete tutti nel medesimo modo. Cioè dice, non ho fatto un peccato, non è che abbia fatto dei peccati che voi non avete fatto. E quindi, se non vi convertirete, perirete tutti nel medesimo modo. E poi Gesù stesso commenta un altro fatto, possiamo dire di cronaca, che era accaduto vicino a Gerusalemme. Cioè era accaduta una torre, la torre di Siloe, e cadendo aveva ucciso 18 persone. E Gesù dice, non è che quelle 18 persone che sono morte fossero più peccatrici di altre, ma se non vi convertirete, perirete tutti nel medesimo modo. Allora, cari amici, noi cosa potremmo dire di fronte a queste espressioni? Beh, voi immaginate un fatto di cronaca di oggi, che è terribile. Cioè le immagini che ci arrivano dall'Ucraina, con tutte quelle persone che muoiono. persone che molte volte pregano che sono innocenti, sono dei bambini. Allora, noi potremmo dire, ma che cosa hanno fatto di male per essere trattati in questo modo, per avere una fine di questo genere? E Gesù direbbe, se non vi convertite, perirete tutti nel medesimo modo. Cari amici, come è attuale questa frase di Gesù oggi, anche perché, ecco, la guerra che è stata iniziata è una guerra che per la mavalcità umana potrebbe portare veramente a ciò che la Madonna ci ha detto. E cioè che Satana vuol distruggere le vostre vite e il periodo sul quale vivete. Però non è che Gesù fa queste espressioni, dice queste espressioni, per impaurirci e per paralizzarci. Di fatti, subito dopo, dice un'altra parabola. Dice, un tizio ha piantato nella sua vigna un albero, un albero di fico. E dopo un po' di tempo, dopo tre anni, va a vedere, ma il fico non ha avuto nessun frutto. Allora dice, ma cosa sta qui a fare quest'albero che non dà frutti? È in carica del vignaiologo italiano. Ma il vignaiologo dice, aspetta ancora un anno, adesso io lo concimo, lo arieggio, per così dire, e se il prossimo anno non avrà dato frutti, lo taglieremo. Allora, cari amici, la Madonna è qui da 40 anni, che chiama nel mondo la conversione, e che già da tempo ci ha detto che Satana vuol distruggere le nostre vite e il pianeta sul quale viviamo. La Madonna è arrivata perfino a dirci, io mi incinocchio davanti alla vostra libertà e vi supplico, convertitevi. Ci ha detto in tutti i modi che il mondo che stiamo costruendo, che è un mondo senza Dio, la nuova creazione, i nuovi tempi, cioè l'inferno sulla terra, poi stanno progettando, che è proprio una ribellione a Dio, proprio, e ciò nonostante, pochi l'hanno seguita. Pochi l'hanno ascoltata, ancora meno l'hanno seguita, mentre ancora oggi un numero enorme di persone, enorme di persone, neanche la prendono in considerazione. Allora, quanto tempo ci rimarrà ancora? Perché non c'è altra strada per la salvezza che è quella della conversione. Avete sentito il messaggio della Madonna a Miriana. La Madonna ci ha detto una cosa, una frase che l'aveva mai usata, ma è molto efficace. Ha detto, figlioli, vi supplico ancora, ancora, ancora una volta di pregare per quelli che non conoscono l'amore di Dio. Perché andiamo verso tempi in cui, cari amici, chi non è aperto a Dio, chi non ha la sua luce, chi non ha fiducia in Lui, chi non ha la sua forza, la sua pace, il suo coraggio, tutto quello che la Madonna ci ha detto, non può affrontare tempi così difficili. Verrà sicuramente travolto. Ma mentre io vi parlo, c'è ancora tempo per la conversione. Perché la conversione, certamente, è un processo che ha bisogno di tempo, però l'inizio della conversione può accadere anche in questo momento. Uno può dire, Signore, sono un povero peccatore, Signore, abbia pietà di me. Insomma, l'inizio della conversione è quella timida risposta del cuore che si apre a Dio. Almeno quello la Madonna si aspetta. Non entriamo nei tempi delle tenebre, nei tempi dell'odio, nei tempi della morte, nei tempi della paura, cari amici, come alberi secchi o come rami secchi che il vento spazza via. Dovrebbero essere rami verdi, uniti a Cristo, come ci ha detto la Madonna, uniti a Lui che è la via, la verità e la vita, e così passeremo, cari amici, attraverso questa tribolazione andremo verso i tempi che la Madonna ha detto, sui tempi nuovi della pace. Quindi tutto è nelle nostre mani. Dobbiamo ascoltare la voce di Dio. Ma guardate, ma guardatevi intorno. La gente non parla neanche più di Dio, ma Dio non c'è, Dio non esiste. Vive senza Dio, muore senza Dio, non prega. Fateci caso. Ma questo è l'Occidente. È una landa desolata. Eppure qui la Madonna ancora pazientemente ci chiama, ancora, ancora una volta vi supplico, pregate per quelli che non si sono aperti all'amore di Dio. E quindi facciamolo noi stessi in questa quaresima. Arriviamo alla Pasqua rivestiti dalla grazia santificante e diventiamo apostoli di salvezza per tutti quelli che conosciamo. E con questo abbiamo terminato e chiediamo quindi la benedizione del Signore nella certezza, come la Madonna ci ha detto, inclusivo del messaggio, io sono con voi e quindi la benedizione di Dio ci segua nel nostro cammino quaresimale. Di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato. Regina della pace. Prega per noi. Buon proseguimento di quaresima.